buona giornata amici da massimo foghetti oggi è venerdì 11 marzo 2022 non sono belle giornate a leggere le notizie che appaiono sui giornali quelli che stiamo vivendo comunque io vi auguro una buona giornata affinché insomma la speranza sia sempre un punto di arrivo per tutti noi e cominciamo subito a vedere chi è il santo del giorno un santo un po controverso tant'è che la chiesa latina non lo festeggia ma lo festeggia la chiesa ortodossa specialmente quella greca e san costantino san costantino l'imperatore romano che concesso ai cristiani la libertà di culto si convertì alla fine della sua vita dopo la celebre battaglia di pontemilio in cui apparve su cui apparve il segno della croce in hoc segno vinces la chiesa latina comunque festeggia altri e altri costantino come costantino confessore a cartagine oppure costantino re di cornovaglia che diventato missionario cristiano restò vittima della violenza dei barbari a san costantino chiunque comunque chiunque esso sia oggi si rivolge una preghiera affinché porti pace tra russia e ucraina insomma sono due nazioni di religione prevalentemente ortodossa e quindi festeggiano san costantino e vediamo ora le previsioni del tempo vediamo come il tempo si mantiene bello su tutta la nostra regione ecco la cartina con il simbolo del sole prevalente tempo stabile soleggiato sulle macche salvo nubi sparse tra il fermano e la scolano il clima si mantiene freddo al mattino le massime aggireranno si aggireranno sui 9 e 10 gradi i venti spireranno sulle coste da una direzione di est e sud est sull'interno una tensione debole da est apriamo oggi il resto del carlino sulla pagina di fano e vediamo come l'apertura è dedicata ad una azione della guardia di finanza test antigenici non sicuri scattano le sanzioni a sequestrarli la guardia di finanza stesso provvedimento è stato assunto per i prodotti da ferramenta accessori moda bigiotteria e accessori per la telefonia non in regola con le regole commerciali sono andati dunque a colpo sicuro i finanzieri sono stati effettuati dieci controlli e elevate nove sanzioni ed altrettante attività commerciali fanesi un'attività questa di monitoraggio che è durata circa quattro mesi e ha permesso alla compagnia della guardia di finanza di fanno di sequestrare articoli per la casa prodotti da ferramenta accessori moda bigiotteria accessori per la telefonia e perfino test antigenici rapidi per la rilevazione del covid quelli che si effettuano tranquillamente insomma da soli tutti rigorosamente non conformi alle normative sulla sicurezza e quindi potenzialmente pericolosi erano esposti in piccoli negozi ma anche nella grande distribuzione quindi una vasta operazione per la tutela della sicurezza delle persone vediamo a fondo pagina un intervento della lega che invita l'assessore alla viabilità fabiola tonelli a non trasformare i parcheggi liberi all'interno della caserma baolini e nei parcheggi a disco orario il provvedimento è stato assunto per compensare i commercianti di via negussanti dalla sottrazione dei parcheggi lato della caserma dove è stata realizzata una pista pedonale è una pista ciclabile insomma la grande trasformazione che ha subito via negussanti no dunque a questa trasformazione perché poi si penalizzano chi coloro che nel centro storico lavorano quindi hanno bisogno di un posto macchina permanente e non limitato a 90 minuti pioggia di medicinali in rotta per l'ucraina sono stati raccolti nelle farmacie dell'aset le farmacie comunali e prenderanno le strade dell'est il presidente paolo reginelli dice siamo pronti alla spedazione è un viaggio di 1680 chilometri fasce cerotti siringhe disinfettanti colliri antidolorifici pomate pannolini sono gli oggetti più richiesti prodotti più richiesti sa ad accompagnarli a destinazione nel confine tra polonia e ucraina saranno alcuni volontari del cb club mattei della protezione civile di fano che attraverseranno l'austria la repubblica cieca per raggiungere infine la cittadina di zalmos nella polonia sud orientale dove incontreranno i responsabili del rota di club locale i quali provvederanno poi a consegnare gli articoli in ucraina dunque un viaggio lungo un viaggio della solidarietà due anni fa moriva italo nannini e in sua memoria si attua l'africa chiama attua una raccolta di fondi messa ad approfondimento sulla guerra messa e approfondimento sulla guerra una messa in memoria appunto a suffragio di italo nannini sono passati ormai quasi due anni dalla morte di questo fanese benemerito molto conosciuto in città per il suo impegno a favore degli ultimi in modo particolare degli africani per ricordarlo le sue due famiglie una quella famiglia reale quella della moglie e dei figli l'altra invece quella della associazione da lui fondata hanno organizzato una seconda edizione di non voltarsi un'iniziativa solidale in memoria di italo attraverso la quale ogni anno viene individuato un progetto emergenziale a cui destinare un contributo specifico e fondi raccolti quest'anno verranno devoluti ad una operazione colomba così è stata denominata un corpo non violento di pace dall'associazione comunità papa giovanni ventitresimo impegnata da anni in zone di guerra come la palestina colombia libano siria cile grecia e ovviamente l'ucraina l'ultima arrivata dunque una memoria che si trasforma in un atto solidale rimbalzo di contagi accidenti il covid non ci abbandona più 25,4 per cento in pochi giorni da sabato scorso nella valcesano dopo un mese di forte flessione dei positivi negli ultimi cinque giorni sono aumentati i numeri dei positivi che hanno ripreso a crescere in modo consistente da sabato scorso a ieri quando si sono registrate 311 persone alle prese con la patologia infettiva i dati appunto sono in aumento riguardano in modo particolare i comuni di mondolfo san costanzo monteporzio mondavio terre roveresche frate rosa san lorenzo in campo e pergola per una popolazione complessiva di 49.947 unità ed ora passiamo ad un'iniziativa anzi a due iniziative interessanti che sono state presentate nella giornata di ieri le vediamo qui a fondopagina sul resto del carlino edita così la fondazione promuove la scrittura è un modo per incentivare coloro che hanno un libro scritto nel cassetto che non si riesce a pubblicarlo ebbene chi è che non ha un libro nel cassetto o un libro di poesie un racconto un romanzo anche insomma ce ne sono parecchi di queste persone che non riescono a pubblicarlo e vorrebbero farlo perché ci hanno faticato molto a scriverlo ebbene la fondazione carifano promuove un concorso mette a disposizione 500 euro per il vincitore e soprattutto la pubblicazione del libro chi vuole concorrere può farlo iscrivendosi appunto a questo bando la data di scadenza è il 30 giugno del 2022 in premio 500 euro e la pubblicazione del libro e a proposito di libri ieri è stata presentata anche la nona edizione di letteraria un premio in crescita tra studenti ed editori un premio che viene ormai è stato consolidato a livello nazionale tanto che partecipano le più grandi case editrici e è importante questo premio perché da giuria fungono gli studenti di diversi istituti superiori della nostra provincia e anche di fuori provincia quindi una giuria selezionata una giuria non influenzabile da posizioni culturali posizioni politiche posizioni sociali ma sono gli studenti liberi di esprimersi come vogliono quindi una nuova edizione che avrà la sua conclusione nel mese prossimo di ottobre e veniamo ad urbino dove si è parlato del commissariato la regione ha aperto il confronto si è svolto un summit un incontro ieri mattina tra l'assemblea regionale il comune di urbino il demanio dello stato e i rappresentanti dell'udc e del siulpe il sindacato di polizia non è stata assunta ancora una decisione ma una cosa è stata decisa no il commissariato al sasso una posizione che non viene giudicata idonea né per quanto riguarda i cittadini né per quanto riguarda gli stessi agenti di polizia che si troverebbero in una posizione non idonea non favorevole alla loro attività nuova sede del commissariato veniamo ora alla pagina di pesaro sul resto del carlino dove vediamo l'iniziativa ce ne sono di questo ogni tanto nei giornali un'iniziativa di un'azienda che pone una gratifica nella busta paga dei propri dipendenti in questo caso per aiutarli ad affrontare le spese del caro energia un'azienda da 60 mila euro extra ai dipendenti e il nostro aiuto per pagare le bollette e il mobilificio lc che ha posto circa 200 euro in più nelle buste paga aumento dei costi incredibili giusto ha detto il titolare dell'azienda lorenzo campanelli a sostenere chi lavora per noi e qui vediamo la fotografia di lorenzo campanelli insieme al figlio francesco e alla figlia lucia i costi per l'illuminazione sono raddoppiati anche i comuni le istituzioni soffrono per l'aumento che hanno subito repentinamente le fonti di energia è il caso di macerata feltria che cosa ha fatto il sindaco di macerata feltria il sindaco luciano arcangeli ebbene ha spento un lampione sì un lampione no l'illuminazione pubblica e così si risparmia i comuni hanno difficoltà a far fronte ai rincari scelte simili poi vengono fatte anche a durbania e ferminiano rischiamo di passare da 100 mila a 200 mila euro del costo dell'energia ha detto arcangeli troppo per il nostro bilancio stop dunque a 300 punti luce su 700 si fa un pochino più buio nella città ma si risparmiano soldi a pesaro la luce costerà 3 milioni e mezzo in più stangata anche a fano l'assessore nobili bollette alle stelle la collega cucchiarini di fano grande incertezza non abbiamo ancora il polso di quelli che possono essere precisamente gli aumenti per tutto l'anno corrente ha dichiarato l'amministratice ma la preoccupazione è alimentata anche dal fatto che non sono certe le misure che il governo attuerà per sostenere gli enti locali e quindi si dovrà far fronte con le fine con le entrate di ogni comune e vediamo ora la situazione dei profughi c'è un intervento del sindaco di frate rosa alessandro avaltroni in merito alla situazione indecente che si è trovata in un punto di assistenza del proprio comune messo a disposizione per i profughi casa per profughi tra scarafaggi e sporcizia la rabbia del sindaco è inaccettabile dopo il servizio che il resto del carlino ha fatto per quanto riguarda la situazione che si è trovata in questa casa il primo cittadino di frate rose parla del caso degli ucraini mandati in un centro di accoglienza ridotto a tugurio non dipende da noi ha dichiarato ma faremo tutto ciò che possiamo per intervenire non si può ospitare così chi scappa dalle bombe non c'è stata alcuna spiegazione da cristina cecchini che è la responsabile dell'associazione che gestisce questo centro lei comunque dà la parola agli avvocati e in questa pagina vediamo una bellissima fotografia di una bella ragazza ucraina con il proprio figliolietto di tre anni ebbene il dramma della studentessa in fuga una stanza per me e il mio bambino ha fatto un lungo viaggio per riuscire a scampare dal dramma della guerra ha percorso mezza europa con il proprio bimbo lei ha soli 21 anni ha raggiunto la mamma che fa la badante a pesaro la sta ospitando temporaneamente nella casa dove la mamma presta servizio ma ovviamente non può durare a lungo questa situazione e quindi chiede una stanza per me e il mio bambino questa ragazza questa ragazza che si chiama vediamo un attimo si chiama anna anna con gli occhi stanchi dopo un lungo travaglio per quanto riguarda la situazione ce ne siamo andati nel terrore ha detto hanno distrutto il mio paese e chi può ridarci la speranza in un futuro e a questo punto siamo costretti a parlare di un lutto che ha un po sorpreso tutti nella serata di ieri è morto daniele tagliolini aveva 44 anni è stato presidente della provincia poco prima dell'attuale presidente giuseppe paolini era un politico di qualità innovatore e appassionato combatteva contro un tumore che si è manifestato appena quattro mesi fa quindi un decorso rapidissimo purtroppo che l'ho portato al decesso la tragedia ha colto tutti di sorpresa nei giorni scorsi ancora pianificava progetti e condivideva idee è stato sindaco di peglio e presidente della provincia nel periodo più difficile ora era al vertice di marche multi servizi a vincerne il fisico è stata la velocità di un timore di un tumore comparso meno di quattro mesi fa in particolare tagliolini presidente della provincia ha combattuto e vinto per migliorare la vita degli studenti dice il resto del carlino a lui si deve l'avvio di un'importante attività di ristrutturazione puntando sull'efficientamento energetico e non solo ma con le scuole ha costruito molto anche dal punto di vista dell'attività didattica e formativa e quindi un lutto improvviso borse di studio al femminile dal valore di mille euro andranno alle studentesse che si iscriveranno al nuovo corso di ingegneria di pesaro quattro borse di studio del valore di mille euro ciascuna andranno appunto alle studentesse perché si iscriveranno al corso di ingegneria green industrial engineering che si svilupperà nella laura magistrale con sede a pesaro la proposta è stata approvata è stata approvata dalla giunta ricci l'otto marzo scorso ed è stata presentata dall'assessore del movimento 5 stelle francesca franquellucci e poi non possiamo non parlare della tirreno adriatico perché domani si svolge questa bella gara sportiva che attraverserà tutto il nostro territorio provinciale ebbene la vincita si decide a casa nostra domani la penultima tappa della gara tra il terreno e l'adriatico da pecchio a carpegna saranno 21 i comuni attraversati ecco il percorso qui evidenziato da una tabella è il percorso e gli orari si parte ad a pecchio alle ore 10 e 45 si arriva in carpegna alle 16 e 48 questo secondo la tabella di marcia vediamo come il picco dell'altitudine fissato sul monte carpegna all'altezza di 1367 metri il giro e la salita del cippo intanto una mostra a carpegna ed ora passiamo al corriere adriatico vediamo sulla pagina di fano l'apertura ieri c'è stata una manifestazione una nuova manifestazione degli ambientalisti contro il progetto che l'amministrazione comunale insieme all'anset intendono realizzare sull'argine del torrente arzilla dove si dovrebbe un po' stravolgere l'assetto ambientale si allarga la pista ciclabile si mettono delle cestonate si tagliano degli alberi cosa che non vogliono assolutamente i componenti del comitato che si oppone a questo progetto sono favorevoli alla pista ciclabile lo hanno ribadito molte volte ma non in questi termini una pista ciclabile ridotta a due metri di larghezza non comporta né interventi sulla massicciata e né il taglio degli alberi quindi si può conciliare l'aspetto naturalistico con magari un miglioramento del percorso ciclabile il fondo stradale l'illuminazione questo è tutto accettato ma non interventi troppo invasivi e quindi nonostante che ormai il cantieri si sia installato vediamo in questa fotografia questo colore arancione che dimostra che evidenzia la rete che è stata posta a chiusura del percorso nonostante questo il comitato non demorde e quindi continua la sua protesta e continua la protesta anche l'upus in fabola per quanto riguarda la variante di Cimarra considerata un'opera inutile e dannosa l'upus in fabola insiste stupiti dagli autisti ami che sono pro infrastruttura è stato insomma una sorpresa che anche gli autisti dell'ami vogliono questa variante questo percorso che dovrebbe dirottare un po' il traffico che ora si indirizza nel centro storico di Fano verso la periferia farmacia di aset 6.300 prodotti raccolti in sei giorni per gli aiuti in ucraina è il risultato eclatante per quanto riguarda la solidarietà espressa dal territorio fanese e in questo caso vediamo poi l'operazione della guardia di finanza violata le norme di tutela dei consumatori la finanza sequesta oltre 38.000 prodotti oggetti di ferramenta, bigiotteria, igiene per la casa ma anche kit per i tamponi anti covid insomma non erano considerati sicuri e poi vediamo che la fondazione Carifano fa questo progetto che aiuta coloro che hanno uno scritto un romanzo, un libro da pubblicare e non pubblicato appunto per riuscire a portarlo a pubblicazione ecco a editarlo, infatti Edita è la nuova sfida di scrittura bandita dalla Carifano destinata ad autori di tutte le età e poi abbiamo il concorso di letteraria Voce agli studenti in gara 112 titoli editi dalle principali case editrici a livello nazionale ma anche dalle case indipendenti questo fa onore a quegli imprenditori che hanno coraggio di pubblicare libri che forse non hanno un grande smercio ma che sono importanti a livello culturale la lega accusa per Tonelli cittadini di serie A e di serie B quelli di serie A sarebbero quelli di Via Negussanti che in realtà poi hanno contestato anche la Tonelli e quelli di serie B sono quelli del centro storico che si vedono privati di 120 parcheggi liberi all'interno della caserma Paolini trasformati in parcheggi a disco orario a Fossombrone IRPE e FEIMU restano invariate ora caccia alle fonti del PNRR si profila il bilancio per l'anno in corso l'assessore Mezzanotti illustra i prossimi investimenti e anticipa le nuove opere l'amministrazione sta focalizzando l'attenzione soprattutto sul piano nazionale di ripresa e resilienza e sui futuri bandi regionali e statali per attingere fonti di entrata barchi elettronici e targa system avviati i lavori per l'installazione a San Costanzo il sindaco evidenzia spy cam all'avanguardia collegate a polizia locale e carabinieri numerosi cittadini hanno seguito con attenzione in questi giorni l'installazione delle telecamere nel varco tra Mondolfo e Marotta all'altezza del Baredda in strada Mondolfo in prossimità dello svincolo che mette sulla provinciale di Santa Vittoria in direzione di Marotta le telecamere saranno installate anche negli altri varchi sulle strade che collegano San Costanzo con i comuni di Fano e Torre e Terre Roveresche nelle frazioni di Stacciola, Camminate e Cerasa quindi c'è un impianto di sorveglianza particolarmente efficiente che può rilevare tutte le infrazioni che possono essere realizzate giriamo ancora la pagina, troviamo quella di Senigallia dove l'articolo di cronaca evidenzia come i banditi dello spray sono pentiti a metà e si parla del processo che si svolge in Ancona per quanto riguarda quello che è accaduto alla lanterna azzurra di Corinaldo in questo caso si rilevano le dichiarazioni di due imputati il carcere ci ha cambiati, hanno dichiarato si tratta di Raffaele Mormone e di Badr Amenoia due dei sei ragazzi della bassa modenese accusati dalla procura di avere contribuito a creare la calca infernale all'interno della discoteca noi hanno dichiarato non centriamo con i morti siamo pentiti però di quello che abbiamo fatto e intanto il processo prosegue apriamo la pagina anche sulle notizie regionali e vediamo come è tutto in movimento il sistema dei concessionari di spiaggia per quanto riguarda quello che cambierà con la riforma Bolkestein dalle Marche verso la Capitale partiti Pullman a Roma si svolgerà una manifestazione partiti Pullman ma anche tante automobili i politici saliti sul palco si sono schierati con i concessionari ma ancora però il testo della legge non è stato emandato con le loro richieste insomma c'è un problema tanto più che probabilmente si anzi si pensa no probabilmente si pensa che quando verrà proposta la legge di adeguamento alla direttiva Bolkestein per quanto riguarda le gare d'appalto che dovranno essere fatte per le concessioni di spiaggia si ponga la fiducia e allora la legge dovrà passare nonostante appunto l'avversità dei diretti interessati qui vediamo delle dichiarazioni dei volti dei concessionari che esprimono la loro protesta nei confronti di questa direttiva è una direttiva europea e quindi difficilmente ormai dopo tanti tanti rinvii e rimandi l'Italia potrà derogarvi il popolo degli chalet urla il suono alle aste ma teme l'imboscata e siamo in conclusione voglio soltanto segnalarvi ancora questa presa di posizione dell'assessore regionale Carloni presente all'incontro della Commissione per lo sviluppo economico della Conferenza delle Regioni per quanto riguarda il caro vita e soprattutto il caro energia la proposta è quella di togliere le accise sull'energia stop speculazioni sui prezzi e questo è tutto per il momento per quanto riguarda la nostra rassegna stampa io vi do appuntamento a domani alle ore 7 e per le notizie del giorno ad occhio alla notizia di questa sera alle ore 20.30 condotto da Simona Zonghetti questo è veramente tutto a risentirci